queste sono le malghe di prozoso furono teatro esattamente 75 anni fa il 7 febbraio del 1945 del più grave episodio di conflitto interno alla resistenza italiana del quale si è lungo parlato con imbarazzo anche a volte da parte degli storici noi oggi alla fine di questo racconto vi proporremo l'intervista a uno storico che inquadrerà appunto cosa avvenne all'epoca al confine orientale anche da un punto di vista politico etnico e ovviamente della storia della liberazione del confine orientale nel 45 ci sono ancora molte idee ci sono ancora grandi contrapposizioni sulle vicende dei porzus per raccontarvi questa storia mi sono ottenuto a quanto è scritto in questo libro è il testo della sentenza del 3 aprile del 1954 della corte d'appello di firenze sull'ecidio di porzus tutto cominciò il 7 febbraio del 1945 qui le prime uccisioni quelli del comandante del commissario politico di elda turchetti ma poi i prigionieri furono trasferiti al bosco romagno e al bosco di restocina proprio sul confine con la slovenia erano quel 7 di febbraio del 1945 le 14 e 30 di un mercoledì arrivarono da là e si spacciarono per sbandati soldati scappati dai tedeschi alcuni anche si spacciarono per ex osovani e un gruppo di circa 100 partigiani comunisti appartenenti ai battaglioni cap principalmente dislocati sul colio e capeggiati da mario tofanin detto giacca raggiungono il comando del gruppo delle brigate est della divisione partigiana osoppo situato nel friuli orientale in alcune maghe in località di topli work nel comune di faedes in seguito la zona divenne più nota con il toponimo di porzus dal nome della vicina frazione del comune di attimis l'ordine ai gapisti secondo la ricostruzione processuale era stato messo per iscritto dal vice segretario della federazione del partito comunista di udine alfio tambosso detto ultra ma questa è una storia che comincia prima alcuni giorni prima sotto natale nel 1944 quando la brigata partigiana osoppo dell'est unita la divisione garibaldi natisone non accetta di attraversare l'isonzo per unirsi all'esercito di liberazione popolare della jugoslavia come fanno invece i garibaldini il rapporto tra i due gruppi partigiani si fa teso i primi che hanno tra le proprie fila ex militari e volontari di diverse estrazioni politiche non vedono di buon occhio la propensione dei secondi per gli ex jugoslavi con la benedizione del partito comunista italiano a rendere ancora più tesa la situazione arrivano anche reciproche accuse di tradimento e si arriva all'ecidio che si consuma fino al 7 febbraio del 45 poi la carneficina prosegue nei giorni seguenti fino al 18 febbraio in altri luoghi 17 partigiani vengono uccisi tra loro lo abbiamo ricordato elda turchetti accusata ingiustamente dai garibaldini di spionaggio loro ex prigioniera fanno parte della brigata osoppo formazione di orientamento cattolico e laico socialista la fraterna mano omicida e quella di un gruppo di partigiani in prevalenza gappisti appartenenti al partito comunista italiano l'evento considerato uno dei più tragici e controversi della resistenza italiana fu ed è tuttora fonte di numerose polemiche in ordine ai mandanti dell'ecidio e alle sue motivazioni la ricostruzione dettagliata dello svolgimento dell'operazione gappista fu fornita nel corso dei processi e poi riprese approfondita in alcune pubblicazioni la colonna raggiunse l'abitato di porzus e poi si divise in gruppi che raggiunsero le malghe di toppli work in momenti diversi per superare i posti di guardia osovani senza creare scompiglio i gappisti affermarono d'essere in parte partigiani sbandati a seguito di un rastrellamento in parte civili fuggiti da un treno che li portava in germania attaccato all'aviazione alleata un gruppo di gappisti si spacciò anche per osovani furono tra gli altri uccisi il comandante della brigata osopo francesco de gregori zio del cantautore detto bolla gastone valente detto enea commissario politico della brigata giustizia e libertà e non qui a porzus ma al bosco romano guido pasolini detto ermes fratello dello scrittore pierpaolo dopo la guerra i responsabili vengono processati e condannati ma l'ecidio di porzus continua a far discutere per una sorta di pacificazione storica bisogna attendere il 2001 con l'abbraccio tra il partigiano sovano monsignor redento bello detto candido e giovanni padovan detto vanni commissario politico della divisione garibaldi natisone nel 2012 poi il presidente repubblica giorgio napellitiano si reca in visita ufficiale nella zona del cidio e adesso passiamo la parola al professor andrea zanini docente di storia all'università di udine professor zanini 75 anni da porzus cominciamo con un'analisi della situazione del confine orientale 75 anni fa cosa stava succedendo beh stava succedendo che l'esercito di liberazione jugoslavo alla fine del 44 nella seconda metà del 44 stava procedendo verso ovest e verso il confine italiano non nascondendo l'intenzione di considerare in termini di annessione tutte le aree slavofone o dove viveva popolazione che parlava lingua slovena e quindi c'è il grosso problema della potenziale espansione della futura jugoslava jugoslavia anche in parte della venezia giulia questo fu un elemento di contesto che era ben chiaro ai dirigenti comunisti e del cln dal 1944 e si ottenne però di posticiparlo alla fine della guerra l'altra parte c'era il nono corpus e c'era questo accordo il passaggio dell'isonzo che fu forse anche prodromico ai fatti di portus lo soppo disse di no la garibaldi si alleò col nono corpus sì allora sia lo soppo che la garibaldi erano alleati del nono corpus perché combattevano assieme i nazi fascisti tanto è vero che nella zona libera del triulio orientale un battaglione del nono corpus fu integrato nel comando unito osoppo no no ma dicevo di seno lo soppo al passaggio dell'isonzo si a un certo momento nell'inverno si decide nelle alte sfere che la garibaldi passasse sotto il comando operativo del nono corpus questo provocò anche dei mal di pancia però fu sostanzialmente accettato dai dirigenti della divisione garibaldi lì invece lo soppo rifiutò di passare sotto il comando e questo creò quella situazione di conflitto e di terzi età in qualche modo rispetto nono corpus garibaldi forze nazi fascista dello soppo che determinò l'isolamento dello soppo e il conseguente eccidio secondo lei questo è il motivo uno dei motivi dell'ecidio di porzus ma ma prescindere da quello che penso io sono documentazioni lettere in cui chiaramente nel nono corpus dice che va fatto un repulisti tutte le forze imperialiste fascista che sono all'interno del movimento della resistenza questo viene fatto proprio in qualche maniera dal dal partigianato comunista italiano pur non senza fratture perché secondo me bisogna considerare anche la differenza delle posizioni e fu questa la radice prima che portò all'eliminazione drammatica del piccolo gruppo osovano delle malghe di topley work professore in chiusura vorrei che lei commentasse una frase che mario lizzaro scrisse in un libro nella sua autobiografia scritta postuma disse che l'ecidio di porzus la leggo testualmente è all'origine della grande perdita di prestigio e di forza della resistenza garibaldina ed anche del pc quasi una missione di colpa si va detto che lizzaro ebbe sempre una posizione di forte critica rispetto a quanto era successo tuttavia senza sciogliere completamente alcuni passaggi nel quale era stato coinvolto ma da uomo politico avvertito e concreto qual era capì subito che quello avrebbe condizionato l'immagine della lotta di liberazione quantomeno qua nel nord est per gli anni successivi e fu in questo facile profeta perché si parla molto di porzus il più tragico fatto interno alla resistenza italiana spesso anche dimenticando il complesso della resistenza le sue vittorie i suoi negabili meriti grazie professore grazie a lei e adesso per concludere questo nostro viaggio della memoria nei 75 anni di porzus uno spezzone del film di renzo martinelli dedicato appunto all'ecidio di porzus e la fase culminante quando i partigiani uccidono altri partigiani quando si saprà la verità eh cosa dirai perché la verità si saprà vuoi la verità vuoi la verità vuoi la verità te la dico io la verità la verità sono i compagni ammazzati all'isolto la verità sono i dieci compagni impiccati su audine la verità è la spia fascista trovata su con loro la verità è che questi trattavano quei fascisti ti basta ti basta questa verità non è la verità si che la verità no non è la verità non è la verità che mi ha insegnato tante cose ma le hai capite gecko te le hai capite decidi sempre da solo non hai mai dubbi vuoi cambiare gli uomini loro non la pensano come te e li ammazzi ammazza anche me allora dai avanti ammazza anche me anch'io sono comunista e non la penso come te io non lo voglio il tuo comunismo non lo voglio